allora dato che molti di voi mi hanno chiesto di vedere il mio dolce di uva pronto adesso ve lo mostro che mi ci sono voluti due giorni per prepararlo due alla fine è ronto è riuscito benissimo se ben io non l'avessi mai fatto e adesso vi faccio vedere mio dolcino speriamo sia anche altrettanto buono ma dal profumo credo proprio di sì alla fine è uscito un composto così compatto si avvicina davvero tanto la ricetta originale quindi tutto il mio lavoro credo che sia stato davvero utile alla riuscita bene allora adesso vi mostro com'è perché alla consistenza tipo come di una gelatina così o come sono contenta del mio dolce adesso vi do l'appuntamento a presto il mio prossimo video dove vi prometto che esaudirò tutte le vostre richieste calze scarpe stivali e anche intimo